Questa quarta edizione della Biennale Disegno è caratterizzata sul tema del viaggio e tutta la mostra che ha come sottotitolo dal Grand Tour alla Fantascienza è pensata sull'utilizzo del disegno proprio all'interno dell'atto del viaggiare. Abbiamo scelto questo argomento dopo le chiusure, dopo le interruzioni, il blocco che ci ha condiviso in questi anni che abbiamo condiviso e da quella idea di ripartenza si è generato una tematica che è strettamente e da sempre legata al disegno. È una tematica che ha accompagnato i viaggiatori, gli esploratori, i viaggiatori del Grand Tour, quelli che venivano in Italia per compiere una sorta di romanzo di formazione dentro il quale si arricchivano di storia e di arte lungo un percorso delle città italiane e l'altro estremo del sottotitolo è legato invece alla fantascienza per parlare di un arco che ci coinvolge, ci contiene anche perché il disegno è da sempre anche immaginazione. È la prima sorgente del pensiero e dell'espressione creativa e da quella espressione si declina, si può dire, in ogni attività umana ma in particolare nei progetti, nei momenti della vita in cui si immagina anche il futuro, si riflette sulla propria intimità, sul proprio profondo. per cui questa quarta edizione, ancora più delle altre, documenta uno scandaglio, un utilizzo del disegno come scandaglio interiore e come progettualità della vita. All'interno della ricca messa e dei disegni preparatori per l'Oceanide Dominique de Riency, nel tessuto di temi romantici che ben conosciamo, il mare, i paesaggi, i luoghi, si scoprono soprattutto elementi che anticipano l'interesse antropologico verso le tradizioni sacre e religiose dell'Oceania stessa. Quindi quello che noi conosciamo come la cultura aborigena dell'Australia o le culture oceanine si mescolano e si intessano con la presenza della cultura hindu e buddista attraverso il disegno, il pensamento di diversi luoghi sacri e soprattutto di molte immagini sacri, Shiva, Mahadeva, il Buddha, Ganesh per fare alcuni esempi e creano una sorta di crepa nell'estetica accademica che pure è la mentalità del disegnatore. Nel fondo de Verge della Biblioteca Gambalunga di Rimini sono conservati in due bellissimi contenitori di cuoio, 304, anzi sono rimasti solo 285, dei disegni preparatori per la pubblicazione dei tre volumi dell'Oceanide curata da Domenide Rienzi, 1836-1837. I disegni furono eseguiti per questi tre volumi da Félix-Marie-Victoire d'Anvène, probabilmente da sua moglie, cioè una madame d'Anvène, e dallo stesso Domenide Rienzi che non era un esploratore ma era un grande viaggiatore, un personaggio davvero singolare, molto particolare, che era nato nel 1789, ha combattuto nelle battaglie napoleoniche e poi via via ha percorso tutto il mondo in avventure che potevano sfidare quelle raccontate da Dumas o da Balzac. Precedentemente altre spedizioni avevano fornito un'immensità di immagini, quelle naturalmente di esploratori e dei pittori che seguivano le spedizioni. Le mani dei pittori che avevano seguito le esplorazioni precedenti sono non solo tante ma sono di grandissima qualità, per esempio quella di Lesueur che poi finì anche in America ed era un grandissimo disegnatore anche di animali, soprattutto di animali e quindi tutti gli aspetti della conoscenza dell'epoca sono seguiti con uno sguardo che va dal fascino pittorico medievaleggiante delle rovine, per esempio del pre romanticismo, romanticismo, primo ottocento, a quelli che sono gli interessi scientifici botanici o animalier e con un occhio anche sempre chiaro antropologico verso da un lato il buon selvaggio alla Rousseau e dall'altro invece alle nuove interpretazioni che chiaramente per noi sono superate ma che hanno il fascino di quella che è la configurazione di quel mondo. I migliori viaggi della nostra vita che è la mostra che ho curato all'interno della Biennale del Disegno espone i lavori di 15 artisti, 15 grandi disegnatori e non solo, in alcuni casi sono anche scultori e pittori ma li ho invitati perché nel disegno sono riusciti ad esprimere una poetica e una visione, in questo caso specifico, di un viaggio memorabile della loro vita. La mostra è divisa in due grandi sezioni. La prima sezione è dedicata ad un viaggio nei luoghi, in paesaggi che vengono presentati, che vengono espressi in modo esplicito attraverso uno sguardo che ha a che fare evidentemente anche con la dimensione temporale della memoria di chi li ha ritratti. La seconda sezione è dedicata ai viaggi della mente, a quei viaggi cioè che molto spesso compiamo all'interno di un luogo circoscritto o spesso non muovendoci dalla nostra sedia o dalla nostra stanza. Dicevo che sono 15 artisti e la mostra inizia con dei memorabili tacquini di viaggio in Nepal di Davide Benati che ha voluto esporre per la prima volta anche il celebre tacquino di Kathmandu del 1984, un viaggio al ritorno del quale vide pubblicato il libro di Antonio Tabucchi, notturno indiano, edito da Sellerio e fu il motivo, il corto circuito spirituale per cui questi due grandi artisti si incontrarono e cominciarono a collaborare e ad avere un'amicizia che udirerà per tutta la vita di Antonio Tabucchi. Segue il viaggio in un'isola meravigliosa, favignana, di Rufoism e poi il viaggio di Gianni di Lorenzo Mattotti all'interno delle città del mondo e poi abbiamo pensato di esporre degli straordinari libri di viaggio che Vuitton ha voluto pubblicare in questi ultimi anni servendosi dei maggiori disegnatori del mondo, sono i Vuitton Travel Books. Qui finisce la sezione dedicata ai viaggi nei luoghi e inizia la sezione dedicata ai viaggi della mente, che sono viaggi che hanno a che fare, come dicevo, con il luogo circoscritto. Gianni Moretti con delle ceramiche in biscotto disegnate ed è il proprio corpo che viene disegnato e soprattutto la propria testa, il luogo dove si annidano i nostri pensieri e i nostri incubi. Un meraviglioso disegno di Robert Longo, uno dei più grandi disegni e disegnatori del mondo, che ci presenta il ritratto di Kenyon Reeves tratto dal film Johnny Mnemonic, che ha a che fare appunto con le problematiche del futuro inerente alla relazione fra la tecnologia e la mente. Segue un insieme di disegni di Giovanni Galli, che è un paziente in cura psichiatrica da sempre, che per tutta la vita disegna, 65 anni, corazzate, missili, viaggi immaginifici sullo sfondo di guerre in cui compaiono anche, come elementi contraddittori e pacificanti, delle meravigliose donne in Mutandina e Regiseno. E poi il viaggio nel proprio appartamento, che continua ad essere tale da tanti anni, del grande disegnatore Andrea Barin, i libri di Vito Capone, che sono libri esoterici, in cui il viaggio avviene attraverso l'indicibile, varcando la soglia di un libro che sembra eseguito per ciechi e veggenti. Dopo questa sezione arrivano i disegni di Massimiliano Galliani, che nell'ultimo periodo della sua vita, Massimiliano è scomparso due anni fa, ha disegnato unicamente degli animali e delle matite ed anche il proprio ritratto, il proprio volto, che vengono fuori da una sorta di velo, di paratia e del viaggio nell'altra soglia, nell'altra dimensione. E la mostra termina con i viaggi di Antonio Riello e Gabriele Bonato all'interno delle case di chi non ha casa, cioè all'interno delle zone d'ombra e di oscurità degli homeless, quindi oggetti di chi una casa non la possiede ed è costretto unicamente a fare viaggi all'interno della propria povertà. Diciamo che la mostra anche nel titolo ha in sé l'idea di futuro, che è sempre stato diciamo il mondo ideale del nostro autore, Tajat appunto è un autore di origini svizzere e americane, che però ha avuto sempre la sua infanzia e ha vissuto la sua vita a Firenze, è discendente di un grandissimo artista americano, maggiore scultore neoclassico, Hiram Powers, ed è cresciuto in un mondo di una cultura elevata, ricca, fertile ed è diciamo un personaggio che incarna un po' l'artista rinascimentale, un genio poliedrico che si è occupato di qualsiasi attività dell'ingegno umano, dall'arte al design all'orificeria, all'ufologia, insomma veramente un personaggio molto curioso, noto soprattutto per la sua influenza nel mondo della moda. Lui collabora principalmente con Madeleine Vionnet, che è una delle più grandi fission designer francesi, che si innamora artisticamente di questo giovane e delega a lui tutta la sua campagna pubblicitaria della sua maison e anche diciamo i bozzetti grafici dei suoi abiti da pubblicare sulle principali riviste parigine. Tajat è anche molto famoso per l'invenzione della tuta, che è questo capo diciamo maschile tutto di un pezzo, da qui appunto tutta intera, a cui si riferisce appunto il taglio di questa di questo abito in un unico pezzo di stoffa e da qui il neologismo e la tuta, che inventa nel 1919 assieme al fratello Ram. In mostra ci sono delle carte di studio, diciamo di fogli proprio di idee in cui lui fissa le idee principali per disegni e progetti di arredo, bozzetti appunto di abiti e anche bozzetti di sculture, ci sono anche delle sue sculture originali e sicuramente nell'idea di viaggio, Tajat incarna anche il viaggio maggiore, quello verso appunto altri mondi, perché come dicevo, come accennavo, aveva anche istituito un centro di avvistamento astronomico di presenze appunto marziane e ultraterrestri. Rimini sommersa, i disegni subacquei di Samuele Grassi, è una mostra in cui la città di Rimini subisce diciamo una metamorfosi, è una città lagata in un futuro distopico dove comunque trova una nuova ragione di vita, ci sono mostri subacquei, presenze diciamo di dinosauri che convivono in una città dove le vestigia del passato, quale l'arco d'Augusto, il ponte di Tiberio o anche delle presenze iconiche come il Grand Hotel, il Gratto Cielo, continuano a vivere in questo futuro che porta elementi del passato e elementi del futuro, traghettando la mostra verso la fantascienza. Il Festival Cartoon Club di Rimini è lieto di poter partecipare quest'anno alla Biennale del Disegno ed è lieto soprattutto di poter portare alla città uno dei massimi autori ed esponenti del cinema di animazione mondiale in questo momento. Simone Massi, italiano, un artista che ha scelto una strada molto particolare per poter esprimere la sua arte, ha creato fino al 2023 cortometraggi d'animazione che sono stati tra i più premiati al mondo. Le sue opere hanno un filo conduttore che sono comunque collegabile al tema della Biennale di quest'anno, che è il viaggio. Attraverso i film di Simone, attraverso le sue illustrazioni, lo spettatore è in grado di fare viaggi all'interno della memoria, all'interno delle nostre storie, all'interno della realtà che è quella che Simone ama rappresentare, che è la realtà contadina, che è la realtà del suo paese. Simone viene da Pergola, nelle Marche, ed ha una capacità di empatia con il pubblico rispetto alle opere che propone eccezionale. La sua tecnica è unica al mondo, lavora togliendo il nero per fare apparire il bianco, lavora con delle tecniche assolutamente manuali, non usa tecnologia, su dei fogli di cera nera, va a togliere con strumenti, punte, punteruoli, va a fare esplodere quelli che sono le immagini che poi, disegno dopo disegno, vanno a creare un film d'animazione. È un viaggio in una stanza perché la collezione Rive è ospitata in una grande sala, molto affollata di opere d'arte. È anche un viaggio nel tempo perché la caratteristica principale di questa mostra è che abbiamo una cinquantina di carte, di disegni e una ventina di dipinti incorniciati con corrici antiche del XVI e XVII secolo di grandissima qualità e raffinatezza, per cui il passato e gli anni Cinquanta a contrasto ma con una grande fusione e un grande equilibrio, che poi ritroviamo anche nell'insieme delle opere d'arte allestite tutte insieme per la prima volta a Rimini. La collezione è inedita e non è mai stata esposta al pubblico. È stato realizzato anche un catalogo, edito da corsiero editore, che sarà presentato nel corso della Biennale. Le carte sono dei più importanti, dei più noti artisti del secondo dopoguerra in Italia e sono dei disegni finiti, non sono disegni preparatori, non sono schizzi appunti. Sono opere finite e scelte con grande accuratezza dal collezionista, rappresentano l'apice, il punto massimo raggiunto da questi artisti, peraltro notissimi, che vanno da i nomi più famosi di Fontana, di Ennio Morlotti, Mattioli e anche con un'apertura molto importante sugli artisti della stessa epoca internazionali come Jean Fautrier, Hans Hartung ed altri. My name is Jan Philipp Frusorge, I'm a Berlin-based curator specialised in drawings and I have the great pleasure to be one of the creators of this Biennale for Drawing in Rimini. We have 12 exhibitions here, which is a marvellous bouquet of variety and I'm very happy to present a collection from France here in Rimini. It's the Frac Picardie, one of the most renowned drawing collections in France and we have a selection of 24 artists with 64 works from the mid of the century until now, until today. And I'm especially happy to be here in Rimini because it's for me the second time that I can curate a show for the Biennale di Disegno after 2018 to return to Rimini is a great pleasure. This Biennale is fantastic because it's unique in the world to be specialised in drawings and have such a variety of shows that range from animation, film posters, frames, historical frames in drawings. And also this year's theme, the great voyage, the Grand Tour is a wonderful theme that tells us about that travelling is an important thing to meet other people, other cultures, other human beings and to connect. And this is what this drawing Biennale is also about. So I'm very happy to present the collection from France here in Rimini and also to discover the other exhibitions here in this wonderful city. I'm happy and honored to present the work of Rossac, which is part of the corpus of the Frac Picardie in France and which has been selected by Jean-Philippe Fruzorg. L'oeuvre Rossac is an oeuvre in paper. I'm happy that she is present for the Biennale di Dessin Rimini since she is in lien with the term Rossac. It's a movement of va-et-vient and this movement rappelle la mer, which is very close to here. And then the work keeps in her memory of this pastel which is deployed and which is represented every time she is represented. And so it's the fourth time she is exposed and I'm very honored. And so thank you for speaking out during the work of Rossac. And now I'm great. Grazie.